Mi chiamo Annalisa Polverari, sono la responsabile del progetto Kiwi per quanto riguarda la difesa nei confronti della batteriosi del Kiwi. Si tratta di un progetto importante perché è un progetto innovativo, è un progetto innovativo in termini di ricerca scientifica e anche di ricerca di soluzioni nei confronti di questa batteriosi. Ecco, come ricerca scientifica noi ci poniamo l'obiettivo prima di tutto di capire come funzionano le relazioni tra la pianta e il batterio. Che cos'è che scatena la virulenza e quindi pensare poi a delle modalità innovative di controllo di questa patologia considerando che al momento nei confronti di questa batteriosi ci sono poche possibilità di controllo e che sono basate essenzialmente sull'uso del rame. Il rame ha delle limitazioni in agricoltura e probabilmente ne avrà di più in futuro. Gli antibiotici non si possono utilizzare, quindi la ricerca di soluzioni innovative è quanto mai rilevante. Nel frattempo, mentre lavoriamo sul fronte scientifico, stiamo anche valutando alcune centinaia e forse migliaia di molecole che siano in grado di inibire il processo infettivo, prendendo anche spunto e ispirazione dall'ambito medico per individuare quelle sostanze che sono in grado non tanto di uccidere il batterio quanto di bloccare la sua virulenza, che è una modalità veramente nuova di pensare alla difesa nei confronti dei batteriosi. Grazie. Grazie.